Ciao da Kevan Zadine. Oggi continueremo a parlare dei vari tipi di restauro possibili sui tappeti annodati a mano. In questo nuovo video vi mostrerò l'innesto di nuove frange. Come vediamo questo esemplare probabilmente a causa di un'errata manutenzione si ritrova le frange danneggiate in modo irreversibile. Come prima fase il nostro esperto elimina con forbice la vecchia frangia danneggiata. Terminata la prima fase viene fissato un bordino di protezione che permette un ancoraggio della nuova frangia più resistente. Nella terza fase avviene il rinnesto della nuova frangia che in questo caso è in cotone ma naturalmente è possibile anche con frangi in lana e in seta. L'ultimo step è il fermo frangia, il filo a chiusura della frangia, operazione di cui vi ho parlato in un precedente video. E anche per oggi è tutto, continuate a seguirci sul nostro canale youtube. Grazie e al prossimo video!